Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi voglio farvi vedere un bot automatico di trading molto interessante che possiamo sfruttare secondo me in questo periodo è molto intelligente sfruttarlo perché è un bot su BingX, piattaforma che utilizzo per fare copy trading di cripto in descrizione trovate il link per iscrivervi, usate il mio link così avete il 10% di sconto sulle fee ogni volta capito un'operazione di trading pagate il 10% in meno quindi utilizzate il mio link, lo sconto è a vita sulle fee e poi avete in base a quello che depositate e a quanto tradate con la leva, se fate copy trading sicuramente i trader utilizzano la leva praticamente avete fino a 1000 dollari di bonus che non è male quindi utilizzate il mio link ovviamente vi metto in descrizione anche i miei video tutorial sul copy trading su BingX in modo per chi vuole prima guardarseli e poi iniziare a guadagnare con questo metodo il copy trading praticamente passivo, affidiamo un budget che non deve essere mai troppo ragazzi mi raccomando io poi non sono un consulente finanziario, non sono un trader, condivido solo la mia esperienza di guadagni online su questo canale quindi se ti interessano questi argomenti iscriviti per ispirarti a scoprire cose nuove, io condivido tutta la mia esperienza anche dal punto di vista del business online però poi studia quando decidi di fare trading, copy trading, pensa con la tua testa perché si perdono soldi come ho detto è fatto vedere anche in questo canale di youtube che ti invito a comunque iscriverti e attivare la campanella per non perderti i prossimi video, quindi in descrizione trovate il link per iscrivervi a BingX e avere lo sconto sulle fee e il bonus fino a 1000 dollari oggi vediamo il bot, invece del copy trading vediamo il loro bot a griglia molto interessante, mi hanno detto che comunque performa molto bene e comunque le perdite sono diciamo anche contenute quindi andiamo su, dopo che ci siamo iscritti su grid trading ovviamente dobbiamo depositare gli USDT, in descrizione trovate i tutorial proprio che ho fatto per creare l'account su BingX poi comprare le crypto anche con una carta, dovete comprare gli USDT seguite i miei tutorial e utilizzate il mio link per avere sia il bonus che lo sconto sulle fee a vita dopodiché andiamo su grid trading e poi su future grid in questo momento è molto importante secondo me se pensiamo che qualche crypto per qualche ragione in questo momento per esempio io penso che bitcoin continuerà a salire ecco e se pensate che una crypto salga è importante praticamente può essere utile sfruttare questo bot adesso vi faccio vedere quindi da copy trading scusate da grid trading poi clicchiamo future grid e poi su create allora in questo momento ecco possiamo scegliere la crypto che vogliamo se noi pensiamo che bitcoin continui a salire metteremo bitcoin altrimenti ethereum per esempio io vi consiglio appunto queste due crypto secondo me continueranno a salire ma non sono consigli finanziari io non so perché penso questa cosa è un mio pensiero bisogna sempre fare le dovute i dovuti disclaimer voi ragionate con la vostra testa se pensate che qualsiasi crypto salga potreste sfruttare questo bot che in modo automatico andrà ad acquistare diciamo porzioni appunto di quella crypto adesso vi spiego tutto quindi lasciamo le modalità automatiche in realtà in manuale dopo lo vediamo possiamo noi impostare un bot a griglia quindi farà acquisti tra due fasce di prezzo in questo caso stiamo vedendo bitcoin il range di prezzo è da 15.000 a 26.000 in questa fascia di prezzo lui compra se mettiamo long quindi lui andrà a prendere il take profit nel momento in cui ovviamente il prezzo in cui è entrato diciamo viene superato nel senso mi avete capito nel momento in cui il prezzo cresce allora andrà a prendere il profitto se mettete short ovviamente se il prezzo discende rispetto a quello in cui voi siete entrati allora prenderà il profitto e mi hanno detto che questo bot funziona molto meglio su posizioni long quindi noi in questo momento pensiamo che bitcoin continuerà a salire bene possiamo affidarci a questo bot ovviamente per i motivi più disparati fate le vostre ricerche anche se ci sono una marea di cripto anche se io vi consiglio soltanto bitcoin ed ethereum ma io non sono un trader quindi provo questi strumenti li condivido ma fate le vostre dovute considerazioni quindi io penso per una qualche motivo che bitcoin cresca imposto questo bot sul long ok posso scegliere una leva mi consiglio di non esagerare leva 5 massimo 10 ok close no che ho combinato allora facciamo leva ah ecco c'era qui l'ok leva 10 ok ma mantenetevi bassi anche leva 5 va benissimo e praticamente impostiamo una budget da affidare al bot con il quale acquisterà diciamo ogni volta appunto che il prezzo in automatico raggiungerà dei vari livelli tra queste due fasce di prezzo 15.000 26.000 in questo modo in questo momento è impostato così quindi non lo so utilizzate il mio link in descrizione depositate guardate i miei video tutorial depositate 300 euro affidate che ne so 100 euro ok per l'investimento ovviamente c'è un minimo in questo momento io ho 13 usdt sul conto quindi devo fare un versamento perché c'è un minimo di 41 usdt però ecco voi mettetene 100 200 ok per provare e poi cliccate praticamente su create stop loss non mettete niente e ovviamente no sul long ok sul long allora se mettete long ci vogliono almeno 63 usdt però ecco metteteci 100 200 usdt e ovviamente se pensate che il prezzo salga mettete long se pensate che il prezzo scende mettete short però ecco funziona molto meglio sul long quindi nel momento in cui pensate che una crypto salga salirà potete sfruttare questo bot che in automatico vi acquisterà diciamo le operazioni e vi prenderà il profitto dopo di che dopo che avete impostato il budget cliccate su create e siete a cavallo non dovete fare più niente al massimo perdete quel budget che avete messo ma è molto anche probabile che in automatico questo bot vi faccia guadagnare quindi se vi interessa in descrizione trovate il link vi iscrivete su bing x e provate il suo futures grid molto 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 interessante quindi ve lo consiglio oltre al copy trading andiamo a vedere un attimo manuale se clicchiamo su manuale dobbiamo noi impostare diciamo la la fascia di prezzo il numero delle griglie ora per fare questo per prendere questo genere di decisioni dovremmo praticamente conoscere sapere essere un po' più pratici io vi consiglio quello automatico molto semplice fa lui in automatico a 115 griglie ecco possiamo vedere e ogni volta che il prezzo tocca una griglia lui acquista poi se avete messo long nel momento in cui sale il prezzo lui poi prende il profitto ok molto molto semplice vi consiglio provatelo con 100 200 USDT vedete come va poi potete incrementare fatemi sapere nei commenti come va se volete iscrivervi a bing x e depositare le crypto potete farlo anche con carte di credito trovate tutti i miei video tutorial in descrizione trovate anche il mio link per avere lo sconto sulle fee del 10% è il bonus fino a 1000 dollari in base a quello che mettete alla leva con cui tradate quindi magari con 200 dollari che affidate al bot magari vi arriva un bonus di 50 dollari ok più ovviamente depositate più è grande diciamo il bonus fatemi sapere cosa ne pensate se avete mai provato un bot di trading automatico questo di bing x è molto diciamo profittevole e funziona molto bene soprattutto in un momento ovviamente di lateralizzazione che cos'è la lateralizzazione quando il prezzo si muove appunto fra due fasce di prezzo quindi in questo momento si può sfruttare bitcoin oggi ha ritracciato ma potrebbe tornare a salire a fare nuovi massimi quindi questa può essere una opportunità a sfruttare un bot automatico in descrizione trovate tutti i link utili fatemi sapere e se questi video vi piacciono vi ispirano vi fanno scoprire cose nuove iscrivetevi attivate la campanella per non perdere i prossimi video e vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao